La quinta commissione del Consiglio Comunale dell'Aquila, Garanzia e Controllo, si è riunita per trattare l'aggiornamento degli accordi territoriali e le minoranze chiedono un ITER in tempi rapidi. Cosa sono gli accordi territoriali? È un accordo che viene stabilito tra le parti sindacali che si occupano delle politiche abitative con il Comune dell'Aquila attraverso cui sottoscrivono i parametri per la stipula dei contratti a canone concordato, quindi in vigore sul territorio comunale. I canoni del progetto case dei moduli abitativi provvisori sono stati definiti da una delibera di Consiglio Comunale del 2015 e il canone viene fissato in base al reddito ISEE, in particolare per i redditi superiori a 12.000 euro e il canone di compartecipazione è agganciato agli accordi territoriali. Il problema è che questi accordi sono ancorati alla media tra il valore minimo e il valore massimo della prima fascia relativi al 2004 e il rischio per i cittadini è che arrivi un vero e proprio salasso con l'aggiornamento. C'è la necessità dunque di contestualizzare gli accordi territoriali e i valori medi andrebbero calcolati il più vicino possibile a quanto i cittadini pagavano secondo la delibera di Consiglio Comunale del 2015. Secondo le minoranze deve essere opportunamente fatta una riflessione a ribasso, vista la particolare condizione sociale e ambientale in cui versano i progetti case e i moduli abitativi provvisori. Questa discussione però ci tengo a precisarlo apre una discussione più ampia già concordata con gli altri presidenti di commissione su richiesta mia e di altri consiglieri di opposizione per affrontare in maniera più generale un quadro sul patrimonio abitativo comunale quindi con un approfondimento sia sui piani di riconversione del progetto case mi riferisco quindi alla Scuola di Formazione Nazionale Vigili del Fuoco e quella del Servizio Civile Universale per affrontare invece la questione relativa allo stato di manutenzione, l'inagibilità di alcune piastre fino al punto sulla riscossione e infine affrontare anche la questione di gran interesse in queste città da parte di molti cittadini sui bandi per le nuove assegnazioni che ormai sono fermi da troppo tempo.